Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Cimovido e benvenuto a questo nuovo video di progettazione meccanica. In particolare oggi andremo a parlare di serbatoio in pressione e nel dettaglio andremo a vedere come in prima approssimazione andare a scegliere le viti per andare a serrare ad esempio il coperchio dal corpo del nostro serbatoio in pressione. Quindi parleremo della guarnizione di tenuta, parleremo un attimino degli standard di nomenclatura delle viti, di come sceglierle e una serie di considerazioni da fare circa gli sforzi che si vanno a generare all'interno del serbatoio. C'è da dire che ovviamente la trattazione che faremo in questo corso sarà molto discorsiva, non andrà eccessivamente nel dettaglio, però vi posso più o meno assicurare che per una prima stima approssimativa questi calcoli dovrebbero andare bene. Quindi non provate a costruirvi un reattore nucleare in casa, sicuramente se usate questi calcoli potrebbe esplodere, ma per avere un'idea di massima del dimensionamento, della capacità di un elemento che avete disegnato potete più o meno fidarvi. Benissimo, qui vi ho riportato il disegno di un serbatoio, come potete vedere è composto da una zona centrale che è il mio fasciame, ok? Quindi ho questa zona che va qui fino in fondo, poi ho un tappo piuttosto spesso planare, ovviamente a sezione circolare sul fondo e poi ho un bel coperchio flangiato sulla parte superiore di dimensione piuttosto generosa. Quello che dovremo andare a fare tra le altre cose è capire in questa posizione, quindi dove sono segnate all'interno del nostro disegno, il tipo di viti che andremo a utilizzare per tenere chiusa il nostro contenitore ed evitare che il gas che è ovviamente qua dentro, ok, possa fuoriuscire all'esterno. Quindi andremo anche a parlare un attimino della nostra guarnizione. Per cui iniziamo subito. Allora, quindi il primo punto del nostro problema, che più o meno è ispirato a uno che ho fatto al Politecnico, parla di verifica statica del mantello. Che cosa si intende per verifica statica? Banalmente bisogna cercare di capire se il materiale che compone la parete è in grado di resistere o meno alle sollicitazioni, e sono diverse, ok, che agiscono sulla parete. Ora, i calcoli che andremo a utilizzare noi, quindi con le leggi di Mariotte o comunque lo vogliate pronunciare, quindi le formule che andremo a vedere noi sono indicate nella zona centrale del nostro fasciame, quindi più o meno in questa zona. Per quello che va a succedere nelle zone un pochettino più critiche del nostro serbatoio, come ad esempio qui, oppure anche nella zona di giunzione con il fondo, le approssimazioni che noi andremo a fare non sono proprio valide, ok, per cui le cose potrebbero un attimino cambiare. D'altra parte andare a trattare in dettaglio queste zone è piuttosto complicato a livello analitico e sarebbe meglio farlo col FEM, per cui magari più avanti è già previsto un corso di FEM e magari andremo a parlarne sempre su questo canale di che cosa succede in queste zone un pochettino più critiche. In prima approssimazione comunque andiamo a lavorare sulla zona centrale. Benissimo, quindi partiamo subito verifica statica. Quindi bisogna capire intanto che cosa c'è all'interno di questo nostro contenitore. In questo caso i dati del problema ci dicono che c'è un gas e la pressione di esercizio, insomma quella stimata, adesso qui non sappiamo bene come sia il discorso, ma ci dicono 8 MPa. Io spero, ovviamente, chiunque, qualunque progettista si augura che questa è la pressione massima che il gas qui dentro può raggiungere, perché ovviamente se avessi dei picchi ma nessuno mi ha detto il picco io non posso fare niente, non li posso prevedere. Quindi ipotizziamo che questi 8 MPa siano la pressione massima del gas contenuto. Benissimo, inoltre abbiamo detto che la sezione del nostro contenitore è di tipo cilindrico, quindi abbiamo una cosa di questo tipo, e in più siamo costretti, per fare i calcoli che adesso faremo, a considerare la parete del nostro contenitore sottile. In effetti in questo caso non è neanche un'approssimazione, effettivamente è sottile, cioè lo spessore di questa parete, che io chiamo ad esempio S, è di un ordine di grandezza o addirittura di più inferiore rispetto alle altre dimensioni di questo cilindro. Quindi parete sottile lo possiamo considerare. Quindi nella zona centrale sicuramente i calcoli che adesso andremo a fare possono essere effettuati. Ora, se andiamo in questa zona, ok, e andiamo a fare una sezione, uno spaccato del nostro contenitore, che cosa andremo a trovare? Andremo sostanzialmente a localizzare un settore circolare, ok, ovviamente ho affettato il mio cilindro e mi ritrovo una situazione di questo tipo. Ora, gli sforzi che possono agire su questo pezzettino del mio contenitore sono sostanzialmente di tre tipi, ok, e vanno tendenzialmente in tre direzioni. E sono le classicissime coordinate cilindriche, ok, quindi, cioè, li possiamo esprimere con le nostre coordinate cilindriche. In particolare ovviamente ne avremo uno, che sarà ovviamente uno sforzo di tipo assiale, ok, e poi ne avremo uno di tipo circonferenziale, ok, che ovviamente sarà tangente alla circonferenza del mio contenitore e poi ovviamente ne avrò uno radiale, ok, che punta verso il centro, ok. Quindi questo qui sarebbe ad esempio lo sforzo radiale e questo qui sarebbe lo sforzo circonferenziale. Ok, quindi questi qui sono i tre sforzi principali. Ora, non stiamo a dimostrarli perché vorrei mantenere una descrizione piuttosto veloce del problema, quindi senza stare a tirare in ballo le dimostrazioni matematiche. Comunque se siete curiosi nel caso vi fornisco tutti i plichi pieni di integrali di cui avrete bisogno. Ma sostanzialmente Mario o Mariotte, che si voglia dire, non lo so la pronuncia, io adesso dirò Mario, Mariotte, non lo so, che cosa ci dice? Ci dice che questi tre sforzi, che tra l'altro sono gli sforzi principali, ok, si possono valutare semplicemente in questo modo, ovviamente nelle condizioni di parete sottile e lontano dagli effetti di intaglio, ok, quindi questo ci tengo a ribadirlo, ok. In particolare abbiamo gli sforzi circonferenziali, ok, che quindi sono quelli in questa direzione, che si possono stimare come la pressione contenuta all'interno del mio serbatoio per il diametro del mio serbatoio, e qui non ha senso neanche parlare di diametro medio o cosa, perché tanto vi ho detto che siamo in parete sottile, fratto lo spessore moltiplicato per 2, quindi 2s. Questo qui è la stima degli sforzi circonferenziali. E poi ovviamente ne abbiamo altri due, abbiamo ad esempio gli sforzi assiali, ok, che io chiamo sigma ax, che cosa saranno? Saranno P per il diametro, anche qui ce lo dice Mario o Mariotto, qualunque cosa sia, per 4 volte lo spessore. E già da qui capiamo che abbiamo già un'entità diversa di grandezze, nel senso che ovviamente i due sforzi sono uguali, ma uno è il doppio dell'altro, perché qui abbiamo un 2 al denominatore e qui invece abbiamo un 4 al denominatore, quindi è chiaro che gli sforzi circonferenziali saranno più grandi degli sforzi assiali. Ok? E poi abbiamo la terza componente di sforzo, che sono i sigma radiali, ok, io chiamo sigma rad, ok, e che tipicamente sono compresi tra 0 e il valore della nostra pressione. Ora, nel nostro caso specifico, ovviamente, lo sforzo radiale punta dall'altra parte, perché ovviamente è uno sforzo di compressione, cioè è il mio gas che sta schiacciando e tende ad allargare il contorno del mio serbatoio, del mio fasciame. Quindi ovviamente io qui l'avevo disegnato col verso sbagliato. Sarebbe stato giusto se ad esempio all'interno del mio contenitore avesse avuto una pressione negativa, o addirittura il vuoto, ok? Allora in quel caso sì, era l'ambiente che stava schiacciando, ok, verso l'interno, ma in questo caso è il gas che vuole uscire, quindi spingerà e quindi lo sforzo radiale ovviamente sarà di tipo centrifugo, ok, anziché centripeto. Quindi queste qui sono le tre componenti di sforzo che si vanno a instaurare all'interno del mio fasciame nella sezione intermedia con spessore sottile lontano dagli effetti di intaglio. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Beh, con un qualche criterio di resistenza, quindi ad esempio col criterio di gestresca, dobbiamo cercare di capire se queste sollecitazioni vanno oltre il limite del materiale oppure no. Quindi ovviamente dobbiamo iniziare a tirare in ballo il discorso del materiale con cui sono stati realizzati questi componenti del mio serbatoio. Allora, il problema ci dice che il serbatoio è stato realizzato con questo tipo di acciaio. Questo particolare tipo di acciaio ha una resistenza allo snervamento, quindi un RP02, di 275 MPa e questa è una cosa importante che ci servirà a breve. Comunque, ovviamente, adesso dobbiamo andare a valutare gli sforzi generati. Gli sforzi generati ovviamente non dipendono dal materiale, dipendono solo dal carico e dalla geometria. Quindi andiamo a valutare, ad esempio, lo sforzo circonferenziale. Quindi lo sforzo circonferenziale, beh, io che cosa faccio? Butto dentro tutti i dati e tiro fuori il risultato. Ovviamente la pressione me la tengo in megapascal, il diametro me lo tengo in millimetri, lo spessore lo tengo in millimetri, in questo modo otterrò megapascal. Ovviamente adesso non sto a fare i calcoli, ho qui la calcolatrice, butto tutto dentro e vi do il risultato. Ecco, se non ho sbagliato i calcoli dovremmo arrivare a una situazione di questo tipo. Nel senso, sforzo circonferenziale è 164 megapascal, quello assiale ovviamente è la metà, perché abbiamo visto che è esattamente moltiplicato, il denominatore è moltiplicato per due, quindi è la metà, e lo sforzo radiale si aggira intorno, boh, probabilmente non raggiungerà mai gli 8 megapascal. Per cui il criterio di Gestreska che dicevamo prima, quindi noi dobbiamo convertire questi tre sforzi in direzioni diverse, quindi dobbiamo convertire gli sforzi che abbiamo in tre direzioni differenti, in un unico stato di sforzo, che è appunto il sigma di Gestreska, oppure di Fommise, se si possono usare entrambi i criteri, io adesso utilizzerò Gestreska, che tipicamente che cosa ci dice? Che il sigma risultante, quindi il sigma di Gestreska, di solito si considera sigma max meno sigma min, ok? Ora, che cosa bisogna anche valutare? Che, cavolo, vabbè, il sigma massimo sono 164 megapascal, il sigma minimo, il massimo che possa essere è meno 8, va bene che poi fa meno e meno fa più, quindi sarebbe al massimo arriverei a 172 megapascal, ma secondo me è assolutamente legittimo in questa prima approssimazione trascurare il sigma minimo, e quindi dire che il sigma di Gestreska equivale al sigma massimo, in particolare il sigma di Gestreska, quindi sarà il sigma circonferenziale, ok? Quindi sigma Gestreska sarà uguale al sigma circonferenziale, che è uguale a 164 megapascal, ok? Quindi ovviamente stiamo facendo dei conti della serva così spannometrici, più o meno dovremmo azzeccare il risultato, poi valuteremo. Ecco, a questo punto ovviamente noi che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo dire che questo sigma di Gestreska, ok? Quindi questo sigma GT che abbiamo calcolato, deve essere ovviamente minore o uguale della resistenza del materiale, ok? Cioè, se così fosse, ok? Con il carico che io vado ad applicare, arrivo appena 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 al limite dello snervamento, perché qui ovviamente devo metterci resistenza del materiale, quindi è la mia RP02, ok? Quindi è il carico di snervamento che il mio materiale può sostenere, però ovviamente non mi va bene che sia così, cioè io voglio un certo margine di sicurezza, cioè io voglio che lo stato di sollecitazione provocato dal carico dei miei 8 MPa, ok? Sia minore del carico di rottura del materiale. Se arrivo a dire che è uguale, ok? Vuol dire che appena arrivo allo stato, basta veramente una formica che mi cammina sul serbatoio ed esplode. O comunque non è una bella cosa. Motivo per cui ci mettiamo il nostro bel coefficiente di sicurezza ETA, e di solito noi ETA lo possiamo prendere, non so, 1,5 o 2, valori classici. Io adesso magari prendo 1,5 come coefficiente di sicurezza. In questo modo che cosa posso fare? Beh, l'RP02 del materiale ce l'ho, l'ETA l'ho imposto e posso verificare se nelle condizioni che mi sono state fornite dal disegno, quindi qui nel disegno mi veniva detto che lo spessore, visto che lo potevo leggere qui dalle quote, mi veniva detto che lo spessore era di 10, posso verificare se con spessore 10 il serbatoio si rompe o meno, e nel caso in cui non si rompa se ho un margine di 1,5 di sicurezza. Bene, quindi che cosa faccio? Qui nell'RP02 ci metto il carico di snervamento del materiale che è dato dai dati, che è 275 MPa, 1,5 di coefficiente di sicurezza, e gestresca l'ho calcolato, e mi trovo e verifico se questa cosa è vera. Il risultato di questa frazione è 183, che è effettivamente maggiore o uguale di 164, quindi sì, la verifica statica è superata. Quindi nel primo punto del mio problema mi chiedeva esclusivamente di fare la verifica statica, mi avrebbe potuto dire determina lo spessore perché il recipiente resiste, allora sarebbe stata leggermente diversa la cosa, possiamo fare ovviamente anche questo tipo di problemi, nel senso io non arrivavo qui a dire quanto valeva lo sforzo circonferenziale, io arrivavo al massimo a dire, lo so, lo sforzo circonferenziale, ok, è una funzione dello spessore, perché erano dati tutti gli altri dati, quindi facevo sforzo circonferenziale, sempre supponiamo che lo sforzo radiale sia minimo, ok, quindi si semplifica, mi rimane che lo sforzo circonferenziale in funzione di s, deve essere minore o uguale ad rp02 che conosco fratto un eta che impongo io, ho tutti i dati, mi trovo lo spessore, ok, quindi un'altra tipologia di esercizi che capita sempre è quello non di verifica, ma tra virgolette di dimensionamento, ma il procedimento è esattamente lo stesso, ok, qui avevo un'incognita, qui invece no, era solo da capire se il rapporto era maggiore o minore di una certa quantità. Bene, io piuttosto passerei al secondo punto, perché è molto più interessante, secondo me, cioè il dimensionamento dei bulloni. Ecco, per dimensionamento dei bulloni si intendono principalmente due cose, la prima ovviamente è capire quanti bulloni ci devo mettere, ne devo mettere 10, 20, 30, 60, quanti ne devo mettere? Ovviamente dipenderà anche un po' dal buon senso, quindi puoi eseguire la prima cosa. Seconda cosa, devo capire qual è il tipo di bullone che devo inserire nel mio progetto, cioè, non so, mi va bene una vite fatta di alluminio? Probabilmente no, quindi devo andare a stimare qual è la classe di resistenza del mio bullone, quali sono le dimensioni, qual è il tipo di filettatura, queste cose di qui. Quindi iniziamo subito con la cosa più semplice, che è individuare il numero di bulloni. Allora, il numero di bulloni si individua con una formula sicuramente piuttosto empirica, però me l'hanno riferita tante persone, per cui ve la riporto. Allora, che cosa si utilizza? Si utilizza il diametro espresso in millimetri del nostro serbatoio, ovviamente alcuni ci usano il diametro del medio del mio serbatoio, ma siamo in parete sottile, non cambia tantissimo, altri usano il diametro della guarnizione, cosa del genere, fratto 40 più 4. Ok, può sembrare strano, ma in una prima approssimazione, quindi un numero di bulloni da cui partire con i calcoli, si ricava con questo tipo di relazione. Quindi vi inviterei a segnarvela, a scrivervela da qualche parte, perché me l'hanno detto in tanti che si usa questa formula. Nel nostro caso, quindi spariamo dentro i dati, io adesso userò un diametro medio del serbatoio, che è 410, vediamo cosa salta fuori. Ok, questa formula quindi mi ha restituito 14,25. Ok, ovviamente, allora un paio di considerazioni, chiaramente questa qui è una formula empirica, ok? Quindi chiaramente non mi può restituire esattamente il dato. E ovviamente non ha senso dire, vabbè, il mio serbatoio ha 14,25 bulloni. Allora, che cosa si fa molto spesso nella meccanica? Io prendo questo valore, ok, e lo arrotondo all'intero più vicino. Ok, attenzione, qui ci vuole un piccolo accorgimento, nel senso che questo numero, ok, va bene, ovviamente, allora dire 14,25 bulloni non ha senso, questo credo che sia chiaro a tutti. Bene, io adesso potrei approssimarlo, ovviamente lo potrei approssimare a 14, ok, o lo potrei approssimare a 15. Di solito nella meccanica 1 arrotonda per eccesso, così dice, vabbè, sicuramente è meglio stare un po' dalla parte della ragione. Nel caso dei bulloni, però, non conviene approssimarlo all'intero più vicino, quindi in questo caso al 15, ok, anzi all'intero più vicino per eccesso, ok, ma conviene approssimarlo al multiplo di 4 più vicino, ok, e in particolare io di solito approssimo all'intero multiplo di 4 maggiore più vicino, ok, quindi in questo caso lo devo approssimare a 16, quindi il mio serbatoio avrà 16 bulloni. Perché deve essere multiplo di 4? Poi ovviamente, se non so, vi viene 16,01, magari non ha senso approssimarlo a 20, ok, potete tenere 16, però se già viene un 14 anziché approssimarlo a 12 lo porterei al 16. Niente, deve essere multiplo di 4 perché, come voi tutti sapete, quando abbiamo delle viti, ad esempio su un carter, su una flange, su un qualunque cosa, una buona pratica della meccanica è andarle a serrare a stella, ok, quindi io vado a serrare gli opposti, quindi prima serro questa vita e poi questa qui subito opposta, poi ad esempio, non so, serro questa di qui, poi questa di qui, poi questa di qui, poi questa di qui, eccetera, eccetera. Cioè, l'importante è serrare delle viti, dei bulloni, ok, che siano assolutamente opposte di 180 gradi. In questo modo non rischio di andare a tensionare in maniera imprevista il mio supporto, ok, e in più non rischio anche di piegarlo, no? Quindi mai serrare, ad esempio, in questo ordine, ok, non ha assolutamente senso, anzi, potrebbe veramente danneggiare la nostra struttura, è meglio, sempre meglio, serrare quelli opposti prima, quindi ad esempio in quest'ordine, ok, quindi a stella. E quindi è chiaro che non posso serrare la stella se non ho un multiplo di 4, se sto serrando su una flangia che, in questo caso, ovviamente è cilindrica. Quindi, per questo motivo vado a 16. Non ci sono altri motivi, ma di solito si fa così. Ok, benissimo, quindi abbiamo determinato il numero di bulloni, ovviamente il nostro lavoro ancora non è compiuto, perché dobbiamo andare a specificare il tipo di bulloni, quanto sono grandi, quanto devono resistere, questo è quello che dobbiamo fare, e che era la seconda richiesta del nostro esercizio. Quindi, in parte, abbiamo risposto, ma ovviamente dobbiamo andare avanti. Ok, ovviamente, quindi per proseguire e trovare il diametro nominale, che ovviamente è legato alla resistenza del mio bullone, devo capire qual è la forza principalmente assiale, dovuta ad esempio alla pressione, che va ad agire sul mio bullone. Quindi, devo stimare questo carico. Ora, so che all'interno del mio serbatoio c'è una pressione P. Ovviamente noi sappiamo che la pressione è data da forza per aria, quindi avrò la forza che sarà appunto il mio carico assiale a cui sono soggetti i bulloni, perché ovviamente i bulloni vanno in questo senso. Quindi, se la pressione spinge sul coperchio, il bullone viene tirato, viene tensionato. Quindi sarà la forza, che è quella che voglio di fatto trovare, perché la pressione la so, fratto l'aria. Attenzione, l'aria di che cosa? Non di tutta la flange, perché la pressione non agisce su tutta la flange. Torniamo a vedere il disegno schematico. La pressione va ad agire esclusivamente su questa zona qui, che è quella compresa dalla guarnizione, perché fuori dalla guarnizione, ovviamente io non sento la pressione del gas. La guarnizione è una guarnizione di tenuta, quindi il gas non spinge al di fuori. Quindi sarà dato dalla forza, fratto l'aria. Ma l'aria quindi la trovo con il diametro medio della guarnizione, diametro medio della guarnizione, ovviamente elevato al quadrato, fratto 4 per pi greco. Quindi questa qui è l'aria verde che avevo disegnato in questa zona. Bene, quindi la forza agente totale, ok, sul coperchio, ok, vale 1,21 per 10 alla 6 newton, che è una forza mostruosa. Sono un milione e due di newton, veramente tantissimo, ok? Quindi sono una marea di chili. Ovviamente però ogni bullone non è sollecitato singolarmente da questa forza, perché questa qui è la forza totale su tutto il mio coperchio. Quindi quello che devo fare io è trovare la forza che sollecita assialmente il singolo bullone, ok? Quindi qui devo andare a valutare quant'è questa zona, quindi avrò la mia testa, ok, e la singola testa sarà sollecitata da una certa forza, che chiamo ad esempio FB, F del bullone. La forza esercitata sul bullone, che cosa sarà? Sarà data dalla forza totale, ok, quindi questa qui chiamiamola pure F tot, ok, fratto ovviamente il numero di bulloni, ma il numero di bulloni è 16, quindi prendiamo quel valore di lì, lo dividiamo per 16 e arriviamo al risultato. Bene, in questo caso, scusate se si metto intanto in pausa, ma faccio i calcoli con la calcolatrice, arrivo a 7,6 per 10 alla 4 newton, che sono sempre tanti, perché corrispondono ovviamente a quasi 8 tonnellate di peso, ok, in trazione sul bullone, ma sono sicuramente meno di 1.200.000 newton, ok, questo è ovvio, perché si sono spalmati su tanti bulloni. Bene, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Sappiamo la forza che agisce sul bullone, qui ho rappresentato questa situazione, ovviamente è una forza di trazione, ok, devo passare allo sforzo di trazione agente sul bullone, quindi ovviamente lo sforzo, vabbè, si misura in pascal, quindi è una pressione, la pressione è data da forza fratto aria, quindi per trovare lo sforzo assiale, ok, che quindi è distribuito su tutta la sezione che qui ho disegnato, ok, sarà dato dalla forza agente sulla singola vite fratto l'aria. L'aria ovviamente va valutata in una maniera un pochettino attenta, nel senso che il bullone, la vite, scusate, ecco, tenete conto che questa qui è la vite, il bullone poi è il dado, che è quello che sto disegnando adesso, più la vite, quindi vite più dado fanno il bullone, a me ogni tanto viene da chiamare la vite bullone, in realtà ovviamente questa qui è la vite. Stavo dicendo, l'area su cui agisce questa forza bisogna valutarla con attenzione, nel senso che io ho diverse sezioni nella mia vite, vabbè ovviamente ho la sezione della testa che vabbè non me ne frega niente, non agisce sulla sezione di testa. La parte più critica, io ho il diametro del gambo, quello nominale, ok, ma poi ho anche la zona della filettatura, quindi io avrò una situazione, ovviamente qui facciamo un asse di simmetria, ok, io avrò una situazione di questo tipo, arrivo qui col diametro nominale, poi vabbè ovviamente qui ho la testa, ho il diametro della testa che è molto più grande di quello del gambo, ok, a un certo punto ovviamente qui parte la filettatura, ok, per cui vedete che la sezione resistente, quella dove poi si scaricano gli sforzi, non è quella di testa ovviamente, non è neanche quella nominale, che sarebbe questa, ma è quella del nocciolo, del cosiddetto nocciolo, che sarebbe la distanza tra le due valli della filettatura, quindi ovviamente da quest'altra parte avrò la situazione simmetrica, ho una cosa di questo tipo, ok, il nocciolo, quindi la mia sollecitazione si va a scaricare sulla colonna centrale della mia vita, questa di qui, ok, che è minore, ok, dell'area, data dal diametro nominale, e quindi qui sugli sforzi, se non vogliamo rischiare di sottodimensionare le cose, ci conviene mettere l'area del nocciolo, ok, io chiamo area notch, ok, il nocciolo, quindi questo è abbastanza importante, meglio non sbagliare, ok, bene, quindi questo sforzo assiale, ok, agente sulla vita e a causa della pressione, ovviamente deve essere minore o uguale della sigma ammissibile, cos'è la sigma ammissibile? è lo sforzo che io sono in grado di sostenere, ok, e che ho previsto io da progetto, ossia come al solito, che cosa sarà? Sarà il mio carico di snervamento, perché ovviamente non voglio arrivare a snervare completamente la vita, fratto un coefficiente di sicurezza che mi conviene sempre utilizzare, poi, visto che sono applicazioni anche abbastanza critiche, tradizionalmente qui davanti alla forza, forza al carico assiale, ok, che cosa si va a mettere? Si va a inserire anche un 1,2, che è come se fosse un ulteriore coefficiente di sicurezza, ok, che mi assicura di non rischiare di rompere queste viti, quindi, si aumenta del 20% la forza calcolata, questo per far sì di compensare in un certo modo eventuali approssimazioni, vedi ad esempio il fatto che abbiamo trascurato la componente di sforzo radiale, vedi una serie di cose, quindi tradizionalmente si inserisce un fattore peggiorativo, ok, sul 1,2. Ok, dove sta qui l'intoppo? Nel senso che in questo momento abbiamo una funzione, perché qui ovviamente adesso che abbiamo inserito il coefficiente di sicurezza, possiamo riscrivere la cosa in questo modo, ok, quindi abbiamo la forza agente sul bullone fratto l'area del nocciolo, che è la mia sezione resistente, uguale alla resistenza, rp02 fratto eta. Ok, dove sta l'inghippo? Nel senso, l'inghippo, una maggiore libertà di scelta. Il problema è che io non so la rp02, perché è un parametro che dipende dalla vite che scelgo, cioè io vado sul catalogo, vedo che ci sono 100.000 viti diverse, ognuna è fatta di un materiale diverso, quindi ogni vite avrà un rp02 diversa, ok, quindi questo parametro qui è libero, ok, eta ovviamente fissato, fb è ovviamente fissato, 1 e 2 è fissato, ok, però anche l'area del nocciolo, ok, è libero, perché io ancora non ho scelto la vite, potrei dire, bene, piglio una vite del 22, prendo una vite del 30, prendo una vite del 15, insomma, cambiano le cose, per cui che cosa posso fare? Uno dei due in qualche modo, o me lo dice qualcuno, oppure me lo prendo io, in questo caso, se andiamo sopra nei dati, vedete che c'era scritto che c'erano 12 fori, quindi in questo serbatoio, che non c'entra con il nostro disegno, però diciamo che c'entra la geometria, poi noi abbiamo optato per 16 fori, ok, però ci dice che i fori sono da 22 mm, quindi potremmo dire, vabbè, io utilizzo fori del 22, se no, in qualche modo, devo cavarmela, ok, ad esempio, potrei dire, oppure, ad esempio, l'RP02, me la fisso, perché dico, ci sono varie classi di viti, io come vite, scelgo una 8 e 8, e quindi sono sicuro di sapere la resistenza, e a quel punto determino l'area del nocciolo, che è anche una cosa sensata, io ad esempio procederei proprio in questo modo, nel senso, le varie viti, ok, ci sono diverse classi di resistenza delle viti, ok, quindi una vite può essere caratterizzata da due numeri, quindi, indipendentemente dalla geometria, io ho diverse classi di resistenza, stavo dicendo, la classe viene codificata in questo modo, e poi qui ci sono dei numeri che possono variare, ad esempio, io potrei trovarmi, beh, questa vite qui, ad esempio, è un M5, non lo so, sto sparando completamente a caso, e come classe di resistenza è una 3.6, ok, quindi, ovviamente la X è il 3, e la Y è il 6, allora, come andare a valutare questi due valori? Allora, il primo numero, moltiplicato per 100, quindi io faccio il 3, e lo moltiplico per 100, quindi arrivo a 300, ok, è la mia resistenza meccanica, quindi è il carico di rottura, e ovviamente sono mega pascal, ok, quindi questo qui è come utilizzare il primo numero, e poi ho anche un'altra informazione, nel senso che questo 6, che io ho, io che cosa faccio? Faccio X per Y, quindi faccio 3 per 6, ok, moltiplico ulteriormente per 10, ok, quindi in questo caso sarebbe 6 per 3, 18 per 10, 180, ok, arrivo a dire 180 mega pascal, questo qui è il carico di snervamento, quindi sarebbe l'RP02, o il carico RSN, ok, quindi da questa nomenclatura, io posso tirar fuori informazioni, molto interessanti, circa le viti, ora, le viti ovviamente, ce ne sono di tantissimi tipi, una di quelle più utilizzate, nelle applicazioni meccaniche, è la classicissima 8.8, quindi io adesso mi sento di fare, visto che abbiamo un parametro libero, che ci possiamo più o meno aggiustare come vogliamo, mi sento di dire, io come rp02 considero delle viti di classe, classe 8.8, quindi mi posso calcolare l'rp02, perché ovviamente 8.8 che cosa vuol dire? Faccio 8, cioè il primo numero per 100, ok, ottengo 800 mega pascal di rm, quindi resistenza meccanica, poi faccio 8 per 8 per 10, quindi 8 per 8 per 10, ok, fa 64 per 10, fa 640, ok, arrivo a un resistenza di disnervamento, un rp02, di 640 mega pascal, e questo qui è un valore classico, ok, si trova veramente ovunque, qual è il vantaggio di utilizzare una classe di resistenza piuttosto comune, che tipicamente queste viti costano meno, sono standard, se ne trovano di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutte le fogge, quindi io adesso assumerò una classe 8.8, quindi 8.8 ha 640 mega pascal di resistenza, e questo 640 lo butto qua dentro, a questo punto da questa relazione, io ho tutto vincolato, e trovo l'area del nocciolo, quindi adesso metto un attimino in pausa e faccio i calcoli, bene, l'area del nocciolo, cioè l'area resistente della mia vite, mi viene fuori di 213,75 mm quadri, quindi devo avere una vite, la cui sezione resistente sia almeno 213,75, poi ovviamente se trovo 213 la prendo comunque, non avrò esattamente un eta 1,5, ho preso un 1,5 come eta, non l'avevo detto prima, non avrò esattamente eta 1,5, non avrò esattamente il 20% in più stimato sulla forza, ma potrebbe andare bene comunque, comunque se voglio posso fare i calcoli, una volta che ho l'area di nocciolo resistente richiesta, che cosa faccio? La prendo, vado nel catalogo di vari produttori, e vado a cercare una vite che abbia sezione resistente di almeno 213,75, ok, quindi, vabbè, ovviamente questa qui è una tabella già che riporta dei filetti importanti, vedete, cioè, delle viti abbastanza grosse, vedete, la più piccola è da 10, comunque che cosa faccio? Vado a cercare qui sezione di nocciolo, un 213,75, quindi, ho 175 troppo poco, 225 è leggermente di più, però, visto che stiamo facendo le cose spannometriche, diciamo che potrebbe anche andar bene, quindi ho 225. In realtà, il produttore non fa esattamente il calcolo del diametro del nocciolo, cioè, il nostro è un diametro minimo, cioè, quindi la nostra è una situazione un po' peggiorata, perché ovviamente, io non avrò esattamente questo canale di sezione resistente, perché non ho una sezione che è fatta ad amelli, ok, chiaramente è una vite, quindi il diametro sarà leggermente più grande, però, in prima approssimazione, il diametro di nocciolo va benissimo, quindi ho il, magari evidenziamo la riga, ok, quindi evidenzio tutta la vite che mi interessa, e quindi da questo punto in poi, io faccio riferimento a queste caratteristiche. Bene, quindi io vi direi che ormai, anche il secondo punto dell'esercizio è stato risolto, perché abbiamo determinato il numero di viti, cioè 16, abbiamo detto la vite che deve essere, cioè deve essere una 8.8, e deve avere diametro, insomma, deve essere questa di qui, quindi diametro medio 18.3, insomma, l'abbiamo determinate con esattezza. Adesso che cosa ci manca di fare? Cosa ci chiedeva anche l'esercizio? Beh, dobbiamo trovare il momento di serraggio dei bulloni, cioè, devo spiegare all'operatore quanto tirare la vite per serrare il mio coperchio, perché ovviamente se tira troppo, vabbè, a parte che spana, però potrebbe snervare la vite, ok, oppure potrebbe serrare troppo poco, e quindi il gas a pressione di 8 MPa contenuto all'interno potrebbe fuoriuscire, e ovviamente non mi va la cosa. Quindi, prossimo punto, assolutamente importantissimo, calcolare il momento di serraggio dei bulloni. In particolare, quindi, mi devo assicurare che serrando il mio bullone, io vada a garantire un precarico, che chiamo ad esempio V0, ok, che darà ad agire sul mio bullone, che sia sufficientemente grande, quindi come dicevo, a non far trafilare il gas, ma anche sufficientemente piccolo, a non spanare la mia vite. Quindi iniziamo a valutare quant'è il carico, il precarico da applicare minimo. Il carico minimo da applicare è quello che mi va a snervare la guarnizione. In questo caso, la mia guarnizione, che era collocata qui, che ho evidenziato in rosso, ok, è fatta di alluminio. Il carico di snervamento dell'alluminio considerato vale 145 MPa, ok, quindi, adesso magari me lo riporto qui, era il snervamento della guarnizione, cosa che era? Non sono già dimenticato, 145 MPa. Bene, quindi il carico di snervamento lo sappiamo, perché lo mettiamo qua. L'area della nostra guarnizione la sappiamo, perché ovviamente sarà il diametro massimo, che quindi è 450 al quadrato fratto 4 per pi greco, meno, tolgo il diametro interno fratto 4 per pi greco, ovviamente, quindi questa qui sarebbe la nostra area, che adesso vado a calcolare. Bene, quindi l'area fa 863,9 mm quadrati, metto il valore dell'area qui dentro, a questo punto trovo la forza, e scopro che la forza totale, ok, per mantenere in snervamento la mia guarnizione, vale 125.000 N. Il punto qual è? Che questa forza totale, ovviamente, va scomposta nelle singole componenti dei bulloni, che saranno proprio il precarico del mio bullone. Io quindi, per scoprire la FB minima, ok, per mantenere lo snervamento, ok, sarà questa F tot diviso il numero dei bulloni, ma il numero dei bulloni avrebbe detto essere 16, e quindi scopriamo avere un carico sulla vite di 7829 N. Ok, quindi questo qui è il carico sul, è il precarico sulla vite. Quindi ovviamente questo valore sarà il mio V0 min, dove V0 è appunto il tiro che devo applicare, ok? Quindi ho detto, questo qui è il minimo per evitare che la mia guarnizione di alluminio tra fili, ok, quindi la devo mantenere in snervamento, caricandola con almeno questa forza su ogni bullone, i bulloni sono 16. Quale sarà invece il valore massimo, quindi il mio V0 max, quindi il tiro massimo che posso fare sul bullone? Beh, questo qui è dato dalla mia resistenza della vite, nel senso che questa volta vado in RP02, questa volta del mio bullone, ok, e sarà uguale alla forza, quindi sarà proprio il mio V0 max, quindi il tiro massimo che posso fare, ok, quindi sarà V0 max, fratto l'area resistente, quindi io per lavorare in maniera cautelativa, lavoro sull'area del nocciolo, invece sappiamo che dovrebbe essere leggermente di più. Quindi faccio i calcoli, e arrivo a trovare un valore di 144.000 N, che rispetto al tiro minimo è molto superiore, ok, quindi questa è una forchetta dentro cui posso andare a lavorare. Ok, adesso però attenzione, perché c'è un passaggio un pochettino delicato. Allora, andiamo a schematizzare grosso modo come è fatto questo sistema. Allora, io qui ho la mia guarnizione, qui ovviamente ho il mio coperchio, quindi che è montato sopra, di qui ovviamente passerà il mio bullone con la sua testa, che va a incastrarsi sulla flangia sottostante, ok, e poi qui ovviamente finisce. Ovviamente la guarnizione va imbattuta, è stata deformata sufficientemente, e via. Ok, che cosa succede nel momento in cui entra il gas? Ecco, io vi invito a ricordare che abbiamo trovato il valore di tiro, ok, un range di possibili tiri, dicendo il primo valore, quello minimo, è per evitare che trafili la guarnizione, ok, quindi devo snervarlo, ok, quindi questo qui è il valore inferiore. Quello superiore è dato dal fatto che non devo rompere la vite, ok, ma che cosa succede nel momento in cui io inserisco il gas? Quindi, cioè, vi sto dicendo, io posso scegliere qualunque valore all'interno di questo range, ok, che cosa succede se però io prendo un valore troppo vicino al mio, minimo nel momento in cui io inserisco il gas, quindi diciamo sono appena appena al limite del trafilamento. Quando metto dentro il gas, ok, il gas ha una certa pressione, ok, quindi che spingerà sul coperchio, ok, quindi il coperchio tenderà a sollevarsi, ok, io, il gas sta spingendo il coperchio, quindi che cosa succede? Che la mia guarnizione si scarica, perché il coperchio tende a spostarsi verso l'alto, ok, di un infinitesimo, diciamo pure, ok, ma il fatto che il coperchio si sta alzando, tende ad alzarsi, mi scarica la guarnizione. Se si scarica la guarnizione, ok, vuol dire che la forza gente non è più di 7829, ma sarà di meno, ok, e questo mi porta al trafilamento, quindi non posso prendere l'estremo inferiore, e non posso neanche prendere l'estremo superiore, per lo stesso motivo, perché se io mi sposto, e sono esattamente a 144.000 N, quindi sono lì, pronto a rompere la vite, nel momento in cui io inserisco il gas nel mio contenitore, il gas spinge verso l'alto, spinge il coperchio, il coperchio tira ancora di più la vite, che è già sottoposta a un precarico, quindi la vite già dentro di sé sente uno sforzo di trazione, piuttosto ingente, perché 144.000 N sono tanti, però io che cosa faccio? Il gas me la tira ancora di più, io già ero pelato al limite, rompo la vite, esplodo il contenitore, ok, quindi entrambi i limiti non vanno bene, io adesso per una situazione cautelativa, visto che adesso dovremo anche andare a valutare l'effetto della pressione, l'effetto guarnizione, mi metto esattamente a metà, per non saperne leggere né scrivere, quindi cerco di stare lontano da entrambi i limiti, spero di avervi convinto nel fatto che nessuno dei due va bene. Ecco, io adesso per andare a risolvere questo problema, vado a introdurre una grandezza, che si chiama rigidezza equivalente assiale, ossia la rigidezza assiale, la definiamo in questo modo, quindi la rigidezza axiale, io la definisco come E, che ovviamente è il modulo di Young del materiale, per A, che è l'area resistente, fratto L, cioè è la sezione, quindi la A, ok? E quindi ovviamente io posso definire due rigidezze, ok? Quindi posso definire, e adesso vedremo il perché, ok? La rigidezza assiale per la mia guarnizione, ok? Sarà ovviamente, modulo di Young della mia guarnizione, per l'area della mia guarnizione, fratto L, ok? L è la deformazione, e poi posso definire L, scusate, la rigidezza assiale per il mio bullone, ok? Anche qui, e ovvero in realtà dovrei dire della vite in questo caso, ok? Il modulo di Young del bullone, per l'area resistente del bullone, fratto L. Allora, perché mi servono queste quantità? Ecco, scusate, ho fatto una piccola imprecisione, L, adesso non mi ricordo, ho tagliato il video, quindi L, non è la deformazione, è la lunghezza, ok? Quindi la lunghezza del bullone, oppure l'altezza della mia guarnizione, questo giusto per puntualizzare questa piccola cosa. Ma la rigidezza sostanzialmente è interessante, perché mi permette di esprimere una relazione piuttosto carina, cioè il mio V0, che possiamo anche chiamare, vabbè, che è il precarico, ok? A questo punto è uguale alla, appunto alla mia rigidezza, ok? Per il ΔL, dove il ΔL è la deformazione, ovviamente questa qui è una relazione generica, ossia in particolare poi c'è un grafico tipico di questo caso, ok? Che è più o meno fatto così, allora, sull'asse delle Y abbiamo il V, che sarebbe appunto il precarico, sull'asse delle X abbiamo la nostra deformazione ΔL. Allora, a questo punto, la rigidezza funziona da coefficiente angolare, perché il ΔL è la mia coordinata libera, e ovviamente più la rigidezza è alta, più io, cioè che cosa mi dice questo grafico? mi dice quanta forza, perché V effettivamente è una forza, ok? Adesso qua sembra che K è una forza. Sull'asse delle Y non io ho una forza, quindi la rigidezza mi dice quanta forza devo applicare per deformare, ok? Per avere una certa deformazione ΔL. ΔL ovviamente è adimensionale. quindi se io adesso vado a plottare la deformazione che subisce ad esempio il bullone, ok? Il bullone, la forza, la forza di trazione, ok? Sarà una cosa di questo tipo, e me lo va ad allungare, quindi io ho un ΔL positivo sul bullone, ok? Quindi a un certo punto, ok? Con una certa forza applicata, ad esempio V0, ok? Ottengo questa deformazione, ok? Quindi questa qui sarà il ΔL del bullone, ok? Ovviamente per la mia guarnizione sarà un ΔL negativo, io andrò dall'altra parte, ok? E tra l'altro è probabile che si allunghi anche meno, perché lo spessore è inferiore, comunque adesso non voglio dire scemate, quindi mi aspetto tra le altre cose che sia più pendente la retta della mia guarnizione. E ovviamente il V0 che causa il ΔL della guarnizione sarà lo stesso, perché il precarico è uguale. A questo punto che cosa si fa tipicamente? Ed è un passaggio un po' controintuitivo secondo me. Cioè si riporta la deformazione della guarnizione, anziché con l'origine comune la si trasla verso destra, e si fa in modo che il punto di intersezione sia lo stesso. E ha senso, perché di fatto la deformazione del bullone deve andare esattamente a compensare la deformazione della guarnizione, cioè si deve muovere di pari passo, quindi si individua questo punto comune, ovviamente a un certo V0, che è lo stesso V0 di prima, ma è esattamente la stessa cosa, vedete, ho solo traslato le curve, cioè questo qui rimane il ΔL del bullone, e questo di qui a questo punto diventa il ΔL della mia guarnizione. Ora, perché è interessante? Ma è interessante perché sostanzialmente si capisce che questo V0, che altro non è che il precarico che noi abbiamo imposto prima per mantenere la tenuta sulla guarnizione, o per non rompere la vite, questo V0 che cosa comporta? Dato che abbiamo due rigidezze differenti, perché abbiamo KA e KB che sono diversi, scusate KA, K guarnizione e K bullone sono diversi, avremo due deformazioni diverse, quindi lo stesso carico provoca due deformazioni diverse. Perché sono due deformazioni diverse? Perché devono arrivare allo stesso punto, quindi il bullone che è molto lungo, quindi qui magari c'è il coperchio, qua sotto abbiamo la guarnizione, quindi la guarnizione magari è fatta così più o meno, nel momento in cui io vado a tirare, che cosa succede? che il coperchio necessariamente scende di un tot, e deve andare necessariamente imbattuta con la guarnizione, per cui ad esempio la deformazione del bullone è data da questa roba di qui, perché deve andare imbattuta, ma anche la guarnizione si deforma, e qui abbiamo un'altra deformazione, quindi questo ci fa capire che il precarico che noi abbiamo scelto prima, qua con questo V0, questo precarico crea due deformazioni diverse sul bullone e sulla guarnizione. Il problema qual è? Che nel momento in cui vado ad applicare un'altra forza, perché abbiamo detto che la pressione spinge verso l'alto, quindi tende a compensare la deformazione della guarnizione, per cui tende a scaricare la guarnizione, quindi la guarnizione recupererà un po' di sforzo interno, che sarà sollecitata di meno, il bullone invece viene sollecitato ancora di più, e qui invece è diverso, nel senso che la guarnizione avrà una certa deformazione, che in particolare sarà di allungamento, di allungamento esattamente, allungamento ma si scarica, mentre il bullone che si carica avrà necessariamente lo stesso allungamento, per cui questa forza, che io adesso chiamo forza legata alla pressione, che di fatto è quella che abbiamo calcolato prima, che era, se non sbaglio, qui, esattamente, che dovrebbe essere questa, ok, adesso, forse ho sbagliato, sì, dovrebbe essere questa di qui, questa forza si scaricherà in modo diverso, in parte sul bullone e in parte sulla guarnizione, ma farà in modo che la deformazione risultante sia uguale, in particolare si può dimostrare, io adesso l'ho fatto, non voglio stare qui a dimostrarvi il concetto, ma si può dimostrare che la guarnizione si scarica, si scarica di quanto? Abbiamo il delta forza agente sulla guarnizione, ok, sarà uguale, adesso vado a ricopiarmi la formula, ma il delta guarnizione sarà dato dalla rigidezza della guarnizione, moltiplicata per la forza dovuta alla pressione, ok, che è questa di qui, quella che abbiamo individuato prima, ok, fratto, che cosa? La somma della rigidezza della guarnizione, più la rigidezza del bullone, ok, quindi questa di qui è la quota parte che mi fa scaricare la guarnizione, analogo ovviamente abbiamo una quota parte di forza, che invece va a caricare il bullone, ok, e sarà praticamente l'opposto, ovviamente qui avremo bullone per la forza di pressione, che ovviamente è uguale perché la sentono tutte e due, fratto la sommatoria del KB più il KG, ok, quindi queste due formule di qui che cosa mi dicono? Mi dicono che il tiro che avevo prima, ok, che poteva andare tra V0 e Vmax, viene cambiato, perché se io adesso scelgo ad esempio un V0 medio, ok, che quindi mi cade esattamente qui a metà, ok, questo V0 medio, nel momento in cui il serbatoio è scarico, va V0 medio sulla guarnizione, e V0 medio anche sul bullone, ma nel momento in cui io ci butto dentro la pressione, ok, positiva, quindi 8 bar all'interno, la, io avrò un incremento positivo sul bullone, ok, quindi devo andare a sommare questa forza, e a questo punto devo essere, devo stare attento, che col mio incremento positivo sul bullone, di non andare a sforare sul carico massimo del bullone, e invece avrò un incremento negativo sulla guarnizione, che si calcola proprio così, ok, e devo controllare di non oltrepassare il carico minimo, perché se oltrepasso il carico minimo, non sono più in campo di snervamento, e rischio che la guarnizione inizia a trafilare. Ora, la dimostrazione ve l'ho fatta tutta, ok, ovviamente non voglio stare qui ad annoiarvi, tra l'altro sono particolarmente soddisfatto, perché in classe c'era stata data così, e invece sono riuscito a dimostrarle, e sono contento. Comunque sostanzialmente sono partito dalle basi, ok, ho fatto un paio di considerazioni, se volete guardarvela è qui, per cui fate magari, mettete in pausa lo schermo, ricopiatevi i passaggi, ed eventualmente andate avanti. Però come vedete, sono riuscito ad arrivare esattamente alla formula che adesso utilizzeremo, cioè quella che mi dice che c'è una quota a parte di forza, ok, che andrà a caricare il bullone, e a scaricare la guarnizione. Quindi questo era un excursus, era una cosa interessante che vi dovevo assolutamente dire, tra l'altro la dimostrazione, se ce l'ho fatta io a farla, sicuramente riuscirete anche voi, e adesso però andiamo avanti, e vediamo come utilizzare questi dati. Quindi abbiamo detto, in questo momento ci ritroviamo un V0, allora, diciamo guarnizione, qui siamo guarnizione, ok, guarnizione, qui sotto invece diciamo bullone, ok, che cosa avremo, agente sulla guarnizione? Avremo il V0, che abbiamo identificato prima, che ad esempio potremmo dire un V medio, quindi effettivamente potrei fare la media, anzi, vediamo quanto vale, mi posiziono a metà, così sono sicuro più o meno di non dover rifare il calco. ok, allora vale 75914,5 newton, quindi dicevo, guarnizione abbiamo questa quantità di qui, quindi abbiamo 75914, vabbè, quello che è, ok, newton, che sono in compressione, ok, compressione, ok, a questo punto che cosa succede? Ho un delta, ho un delta forza, ok, dovuto alla pressione, ok, quindi ho un delta V dovuto alla pressione, che ovviamente è negativo, quindi devo andare a togliere la quota parte che ricavo da questa formulettina di qua, quindi devo fare meno, ok, che cosa? Avrò il V della guarnizione dovuto alla pressione, quindi adesso lo calcolo, quindi sarà ovviamente questa roba di qui, guarnizione dovuto alla pressione, sarà kgfp, che è lo stesso, fratto kg più kb, adesso lo calcoliamo, vediamo un po', li faccio tutte e due, ecco fatto, ci ho messo un po', ma ho fatto tutti i calcoli, allora, se non ho sbagliato niente, qui ho calcolato il kg, quindi abbiamo il modulo di Young, espresso in megapascal, l'area che avevamo già trovato prima, espresso in millimetri al quadrato, che devo ovviamente fare fratto 16, perché io sto lavorando sui fattori di competenza della vite, quindi io sto lavorando solo sul pezzettino di aria, in cui sta lavorando il mio bullone, ok, quindi è un sedicesimo dell'area totale, se non sbaglio l'area totale era 800, bla bla bla, quello che è, dov'è che è, vediamo un attimino, l'avevamo calcolata, qui esattamente, la devo dividere per 16, quindi esattamente giusto, fratto 10, 10 che cos'è? È l'altezza della guarnizione, ok, era questo qui il 10, mentre l'altezza del bullone sarà 80 più 80, cioè 160, per questo che c'è il 160 del miniatore, qui idem, ho messo modulo di Yang, dell'acciaio, quindi del mio contenitore, per l'area, non del contenitore, scusatemi, ecco ho fatto una scemata, qui ho sbagliato, perché deve essere quello della vite, non quello della, qua ho sbagliato, scusate, aspettate che adesso corrego, qui non è quello del contenitore, ovviamente, qui è quello dell'alluminio, perché è quello della guarnizione, ma qui ci devo mettere quello del bullone, che non è 206.000, comunque adesso correggo, il 225 invece è l'area della mia sezione resistente, quindi l'area del nocciolo, quindi è giusta, e l'altezza la sappiamo perché è imposta, adesso vado a ricalcolare il valore, ecco niente, controcorrezione, perché il modulo di Yang del materiale delle viti non me l'ha dato nessuno, per cui assumo abbastanza in maniera tranquilla, che siano viti di acciaio, il tipico valore del modulo di Yang è tra 206.000, 210.000, quindi 206.000 dovrebbe andare bene, quindi dovrebbe essere tutto giusto, a questo punto prendo questi KG e KB, e li metto qui dentro, per capire quant'è la quota parte di forza, che va a scaricare la guarnizione, questa di qui, e quanto invece va a caricare il bullone, risolvo i calcoli e trovo questi due valori, quindi stavamo valutando prima, allora io avrò nella guarnizione, adesso se ho spostato un po' la vista non so perché, vediamo un po' di tornare, quindi nella guarnizione che cosa avrò? Avrò questi di qui, che sono quelli dovuti alla compressione, per evitare che trafili il gas, o evitare che si rompa la vite, che quindi erano i V0. A questo punto la guarnizione poi viene scaricata, quindi devo fare meno delta VG, quindi questa quantità la butto qua dentro, e devo controllare che effettivamente, le condizioni imposte precedentemente, siano ancora rispettate. Sul bullone invece che cosa ho? Sempre lo stesso V0, che sono sempre 7, 5, 9, 1, 4 N, però questa volta vado a caricare il delta VB, quindi questa quantità che ho trovato, la vado a mettere qua dentro, perché come dicevamo prima, la pressione mi va a caricare il bullone. Vedo qui quindi quant'è il risultato. Ok, vediamo, metto un attimo in pausa, e vi dico i risultati. Ok, quindi sono arrivato a 34 Kilo Newton sulla guarnizione, ovviamente sono 34 Kilo Newton sempre in compressione della guarnizione, cioè lo scarico che io ho fatto a causa della pressione non compensa a sufficienza il carico di compressione, quindi sono 34 Kilo Newton sulla guarnizione e 109 Kilo Newton sul bullone. Torniamo indietro e vediamo di essere ancora dentro la forchetta, ci siamo assolutamente, perché la guarnizione è caricata più di 7800, che sarebbe un 7 per 10 alla 3, quindi qui siamo invece a un 3,4 per 10 alla 4, ok, quindi siamo oltre, va benissimo, e il bullone è caricato a 109 Kilo Newton e il massimo sarebbe 144 Kilo Newton. Quindi questo ci fa più o meno capire che stiamo facendo le cose come si deve. Il problema qual è? Bisogna considerare degli altri fattori, nel senso che in questo momento, quindi sulla guarnizione abbiamo finito, è giusto, siamo a posto, se i calcoli che abbiamo fatto sono completi abbiamo finito. Il problema rimane sul bullone, nel senso che sul bullone abbiamo tante forze che vanno ad agire, noi sappiamo che una struttura si può rompere per tanti motivi diversi. In questo caso, quindi questo qui è lo schema del bullone, il bullone, o in questo caso la vite ovviamente, allora abbiamo detto che è sollecitata a trazione perché c'è una forza dovuta alla pressione. Poi, è sollecitata a trazione perché c'è il precarico che mi serve a mantenere in compressione la mia guarnizione. Poi che cos'altro c'è? Beh, c'è un momento torcente in cui io vado a serrare questa vite, ovviamente. Cioè, nel momento in cui io dico all'operatore bene, tu vai ad avvitare questa vite e applica, non so, tot, tot, chilo, newton metro, non so, tot, newton metro di coppia di serraggio, ok? Quindi io ho un momento di serraggio, ok? Un momento di serraggio che si chiama MS di secondo livello, ok? Poi vedremo di che cosa si tratta. E in più, ho un altro sforzo che si potrebbe generare, che adesso magari andremo a trascurare, adesso vediamo anche perché il video sta diventando parecchio lungo, ed è uno sforzo dovuto al fatto che magari le flange su cui io sto cercando di avvitare questa vite non sono perfettamente parallele, per cui potrebbe andare a instaurarsi una cosa di questo tipo, ossia potrebbe andare a crearsi un momento flettente ulteriore sulla mia vite. È chiaro che quindi ci sono tutta una serie qui, quindi qui il momento flettente andrebbe in questa direzione, ok? Quindi questo qui sarebbe momento flettente. Tutti questi parametri, ok, possono contribuire a rompere la mia vite. In questo momento io ho solo detto che i carichi assiali non mi portano a rottura la vite, ma chiaramente il carico di serraggio, il momento di serraggio e il momento flettente eventualmente generato, potrebbero crearmi delle sollecitazioni gigantesche e spaccarmi la vite. Quindi devo garantire anche questo. Fino a questo momento più o meno ho indizio di aver fatto le cose bene. La guarnizione è finita, perché chiaramente non è caricata né di torcente, né di flettente. Però il bullone sì e allora devo andare a valutare anche queste sollecitazioni. Adesso magari il momento flettente lo faremo, se lo faremo, adesso non lo so neanche, lo faremo molto velocemente. Ma sul momento di serraggio vale la pena di spendere qualche parola in più, perché invece come si serra una vite è abbastanza importante, perché è tutto lì che sta il gioco. Quindi iniziamo a valutare gli sforzi. Allora, quello complessivo di trazione dovuto al precarico e alla pressione lo chiamiamo VB, ok? Quindi lo sforzo assiale, quindi sigma assiale dovuto ai... Vabbè, chiamiamolo sigma assiale 1, avete capito che cos'è. Sarà dato da che cosa? Da VB fratto l'area resistente, che è l'area del nocciolo. Quindi questo qui è un primo sforzo che adesso tra un attimo metto in pausa e calcolo io. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un tau, che ovviamente sarà un tau max, che è quello causato dal momento torcente. Ovviamente con la solita formulettina noi sappiamo che il tau del torcente è dato da 16 per il momento, che a questo punto è il momento di serraggio di secondo ordine. Adesso vi spiego che cos'è questo 2 di qui. Fratto pi greco per il diametro del nocciolo. Quindi questo di qui sono le tau massime causate dal torcente. Adesso le calcoliamo e vediamo un attimino come combinarle. Ecco, no, niente, ho sbagliato. Qui ovviamente c'è un cubo, perché ovviamente ci sarebbe lo Iota, Iota P sotto. Vabbè, insomma, se arriva a questa roba di qui, la sezione è chiaramente cilindrica, adesso non stiamo a perdere tempo. L'abbiamo già visto nei corsi di base. Dicevo, adesso li calcolo. Bene. Adesso vi butto qui la formula. Poi farò un video più dettagliato per calcolare bene il momento di serraggio. Adesso non riesco a spiegarvi bene che cos'è l'MS2. In maniera proprio approssimata, il momento di serraggio si divide il momento di serraggio 2 più il momento di serraggio 1. Il momento di serraggio 1 è la coppia che io devo fornire per vincere l'attrito. Mentre quello di serraggio 2 è quello proprio che ne va nella vite. Quindi nel calcolo della resistenza ci devo mettere il 2. Se poi la vite l'avete lubrificata nel momento di serraggio 1 si trascura, o comunque è molto piccolo, e rimane solo una roba del genere. Che è una formula spannometrica ma che più o meno funziona. Dicevo, quindi siamo arrivati a questa conclusione. A questo punto che cosa facciamo? Criterio di resistenza, perché questi qui sono sforzi assiali, questi qui sono invece tangenziali, quindi convertiamo il tutto in una sigma von mises equivalente. Ovviamente come al solito abbiamo la sommatoria, quindi teoricamente poi avrei anche gli sforzi di flessione, ok? Quindi qui avrei anche gli sforzi flex nel caso in cui le flange non sono parallele. Adesso me ne frego, ipotizzo che siano 0, poi magari faremo un video dedicato. Quindi avrò gli sforzi assiali al quadrato più 3 volte gli sforzi tangenziali al quadrato, ok? E questa roba di qui deve essere ovviamente minore o uguale alla RP02 della vite, ovviamente, fratto un certo eta. A questo punto si svolgono i calcoli e si riesce, e si cerca di capire se le cose stanno in piedi oppure no. Allora, ammesso che io non abbia sbagliato qualche cosa, comunque mi viene uno sforzo di Fommises equivalente di 640 MPa. La resistenza meccanica della vita, ricordiamoci sempre che sono 8,8, è proprio di 640 MPa. Nel senso, questo qui è proprio l'RP02. Quindi saremmo proprio pelatissimi con un eta uguale a 1. Chiaramente questa qui non è una condizione che si vorrebbe avere. Siamo troppo vicini alla soglia. Per cui, teoricamente, bisognerebbe ricircolare sempre che io non abbia sbagliato qualcosa. Quest'ultimo pezzettino qui non l'avevo fatto. Lo sto facendo veloce con voi per la prima volta. Per cui potrebbe esserci qualcosa che non va. In ogni caso, se anche a voi succedesse una cosa del genere, che cosa potete fare? Dovete o tornare indietro e mettere più viti, quindi anziché 16 farne ad esempio 20, oppure ad esempio prendere una vite più spessa. Quindi anziché un 20 provare con un 22, rifare i calcoli e vedere che cosa salta fuori. Ovviamente adesso non ho intenzione di stare qui a farli. Il procedimento dovrebbe essere corretto. Se ho sbagliato qualcosa è stato o per mia distrazione oppure è un calcolo. Ma tendenzialmente vi direi che c'è stato qualche calcolo sbagliato o qualcosa del genere. Comunque io spero che il video vi abbia interessato. Il procedimento veramente è questo. Non è che mi sono inventato niente. Così l'ho visto al Politecnico così ve lo riporto a voi. Chiaramente ho dovuto semplificare un po' di parti ma tendenzialmente dovrebbe essere questo. Mi spiace che cavolo alla fine il risultato non si è saltato fuori e adesso non ho il tempo di mettermi a correggerlo. Vi ringrazio per l'attenzione e magari nel prossimo video accenderemo ancora un paio di cose al momento di serraggio queste cose di qui. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.